Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Io sono Niccolò e con questo video voglio riprendere un po' in mano la serie della libreria dell'entomologo. Sì, lo so, è passato tantissimo tempo dall'ultimo video di questa serie, però sono stato impegnato a fare altre cose e poi mi sono perso via, quindi il mio solito insomma. Comunque, oggi voglio ricominciare e parlarvi di questi due libretti. Si tratta di Memorie dal sottobosco e Insetti delle tenebre. L'autore è Tommaso Lisa, che fra l'altro ringrazio per avermeli inviati. Si tratta di due libri in cui l'autore va a riflettere sugli insetti e sul modo in cui si rapporta con essi, con il mondo naturale in generale e anche con le persone che si occupano del suo studio. E devo dire che provo delle emozioni contrastanti nei confronti di questi libri. Per alcuni aspetti mi sono piaciuti, però per altri purtroppo non più di tanto. E adesso mi spiego meglio. Memorie dal sottobosco nasce dall'incontro dell'autore con un coleottero della specie Diaperisboleti e da qui parte una serie di riflessioni soprattutto riguardanti le specie simili della famiglia dei Tenebrionidi. Invece, Insetti delle tenebre è il racconto di una serata passata assieme ad un altro entomologo, Paolo Magrini, e passata a cercare insetti endogei e troglobi dalla terra prelevata in una spedizione. Anche qui questo è uno spunto per partire con riflessioni filosofiche sull'entomologia, sul ruolo dell'entomologo e anche su cosa ci spinge a seguire questa passione. Fatta questa premessa, io non credo di aver capito bene a chi sono rivolti questi libri. Dall'impostazione sembrerebbero dei libri divulgativi, però lo stile è molto aulico. Lo ammetto, ci sono dei punti in cui letteralmente ad ogni frase dovevo andare a trovare quelle due o tre parole sul dizionario perché non sapevo che cosa volevano dire. E soprattutto se il lettore è uno alle prime armi con gli insetti o che vuole approcciarsi al mondo dell'entomologia, credo che si spaventerebbe che questo non invogli molto alla lettura. Fra le riflessioni ci sono anche delle parti un po' più rivulgative, in cui si parla di insetti particolari. E soprattutto in Insetti delle Tenebre io queste parti le ho apprezzate moltissimo perché la maggior parte delle cose non le sapevo e mi erano completamente nuove e mi hanno incuriosito molto. Tanto per citarne una c'è la storia dell'Eterogirus Milloti. Tuttavia questo non è il focus principale dei libri. Più che libri di rivolgazione sono libri di filosofia e di sperimentazione linguistica basata sugli insetti. Il punto è che la parte che mi è piaciuta di meno è proprio questa. Allora, forse non sono io tanto il tipo da testi filosofici, però ho trovato le parti di riflessione filosofica molto lente e a tratti anche ripetitive. All'interno dello stesso libro, per entrambi i libri, ci sono dei concetti che ritornano più volte. Soprattutto in Insetti delle Tenebre ho trovato anche il ritmo piuttosto discontinuo. Ci sono appunto queste parti di riflessione filosofica che sono molto calme, intermezzate dagli aneddoti e dalle curiosità sugli insetti in cui il registro cambia totalmente e con uno stacconetto. Per concludere direi che questi libri non sono adatti a dei lettori assolutamente neofiti che sono alle prime armi col mondo degli insetti. Io li consiglierei più che altro a entomologi che ne sanno già qualcosa e che vorrebbero approfondire il lato più filosofico di questa disciplina, oppure a persone che si interessano di filosofia, magari di epistemologia, e vorrebbero provare qualcosa di nuovo entrando nel mondo degli insetti da quest'altro lato. Magari io vi consiglierei di partire, se volete, da Insetti delle Tenebre, che è quello che mi è piaciuto un po' di più. Bene, per concludere io ringrazio ancora Tommaso per avermi inviato questi libri e probabilmente alcuni degli spunti che ci sono dentro potrebbero essere un punto di partenza per dei prossimi video. Non lo so ancora, non l'ho ancora deciso. Basta, questo è quanto. Vi lascio in descrizione i link per acquistare questi libri se volete, costano ciascuno sui 15 euro circa, quindi un prezzo assolutamente onesto. Basta, lasciate un mi piace, commentate e ci si vede alla prossima. Ciao a tutti!